Ragazzi, anche in questi momenti dove c'è attenzione, lo dico perché è vero. E quindi la prima classificata, Miss Riso Toscana 2022, è la numero 19, Arianna Polidori. Chiamo Arianna Polidori, ho 21 anni e sono di Prato. Mi sono diplomata in amministrazione finanza e marketing e ad oggi faccio la mia prima esperienza lavorativa. Miss Italia perché è il mio grande sogno nel cassetto e spero che mi porterà qualcosa di bello. Una serata piena di voglia di stare insieme, Piazza Risorgimento di Quarrata parte dalla bellezza con il concorso Miss Sorriso, primo degli eventi del settembre quadratino proposto dall'amministrazione comunale. Le 21 concorrenti si sono sfidate davanti ad una piazza gremita a colpi di sorrisi. Grazie a tutti!